Click Funnel, Click Funnel, Click Funnel! Sì, da come hai capito, oggi parleremo di Click Funnel. Perché? Perché è uno degli strumenti migliori, se non il migliore, per costruire funnel di vendita. Eh sì, eh sì, eh sì, perché Click Funnel, se non è il migliore degli strumenti, è sicuramente uno dei migliori per costruire funnel di vendita, ma anche webinar, funnel di regeneration. Fa veramente tante, tante, tante cose. Bene, prima di iniziare, se è la tua prima volta su questo canale, ti do il benvenuto in Automaticking. Io mi chiamo Stefano e il mio lavoro e la mia passione è quella di aiutare i piccoli professionisti, i piccoli imprenditori, proprio come te, a vendere di più senza stress, grazie all'automazione di business, automatizzando i processi, anche quelli di vendita. E in Funnel, che cos'è se non è un'automazione dei processi di vendita? Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, io direi di andare direttamente e ti vado a raccontare quello che sarà il tutorial di oggi. E te lo ripeto, sarà probabilmente uno dei miei preferiti e sarà sicuramente bello, concreto e pratico, diviso come sempre in tre sezioni. Una prima, che cos'è Click Funnel? Che cosa fa Click Funnel? A che cosa serve? Beh, nella prima sezione ci aiuterà a capire proprio questo, ma nella seconda sezione andremo a costruire un funnel live, quindi in diretta, ti insegnerò esattamente tutto quello che devi sapere per conoscere, per costruire un funnel e soprattutto nella parte finale ti aiuterò a raccontarti delle integrazioni, degli extra, di come si aggiunge un dominio personalizzato di tutta quella roba che gira intorno alla costruzione dei funnel. Quindi, 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 iniziamo dalla prima sezione. Che cosa serve Click Funnel? Che cosa fa Click Funnel? Come ti ho raccontato, Click Funnel è uno strumento che serve per costruire funnel. Ti porto direttamente sul mio computer e te lo faccio vedere. Click Funnel si presenta in questo modo al momento in cui fai la registrazione. È un software che, attraverso dei link che trovi in descrizione, anche in questo caso attivo la bella grafichetta che ho preparato, link in descrizione per quanto riguarda per fare un test di 15 giorni completamente gratuito di questo strumento. Ok? È un link affiliato e, come tutti i link affiliati che utilizziamo su questa piattaforma, ci aiuterai a comprare altri software. A te non cambia nulla, non cambia nulla a livello economico. Aiuterai, Click Funnel aiuterà a noi in cambio di una piccola provvigione per aiutarci a sperimentare nuovi strumenti, fare nuovi test e fare nuove cose. Quindi ti può essere utile, a te non cambia nulla, ti può essere utile testare questo strumento perché per 14 giorni è assolutamente gratis e facendolo puoi anche supportare il nostro canale. Quindi, torniamo sul mio bellissimo Mac e ti faccio vedere come si presenta. Click Funnel serve per sviluppare gli strumenti dei funnel di vendita e come lo fa? Attraverso quello che viene chiamato un page builder, ovvero costruisce pagine in sequenza, le linka e ti permette di personalizzare tutto quello che ti serve. Questo è un account su cui io ho delle cose dei clienti, quindi in questo caso ho fatto una ricerca, ho filtrato, ci troviamo dentro la sezione Click Funnel sotto la voce Funnel e qui abbiamo tutta una serie di funnel che abbiamo sviluppato giusto per farti vedere come si possono mostrare, ok? Ma poi c'è una panoramica generale che vorrei farti. Ad esempio, sotto la voce Funnel troverai appunto i funnel, troverai i contatti che si sono registrati a tutti i tuoi singoli funnel, troverai il riepilogo delle vendite, troverai quello che viene definito Funnel Marketplace, che è un posto dove Click Funnel ti offre, per una manciata di dollari, di comprare direttamente dei template già pronti. Occhio, non è detto che ti servirà, perché in realtà già all'interno di Click Funnel ci sono un bel po' di funzioni, un bel po' di template pronti. Oggi ti insegnerò a personalizzarli per evitare di fare un copy and call inutile. E quindi siamo, scusami, siamo all'interno di questa voce qui, abbiamo quattro voci nel menu, la voce appunto di Click Funnel dove troverai la parte di Funnel Marketplace, che è quella che ti ho mostrato, Funnel Builder o Build Funnel, e questa invece è questa sezione qui. Questa sezione qui. Ora entriamo nello specifico. Ti faccio giusto finire la carrellata, perché qui hai nella versione a pagamento Click Funnel, al momento due piani di pagamento, uno che ti dà accesso principalmente alla costruzione dei Funnel, uno che ti dà accesso anche alla possibilità di gestire all'interno di questo software, quella che è la Marketing Automation lato email, quindi mandare le email, quindi dividendoli in email list, mandando dei messaggi broadcast, meglio detti anche newsletter, quindi le email che tu prepari e lanci direttamente a tutta la tua audience, oppure a una selezione della tua audience, i follow up, che sono le sequenze automatizzate, i flussi, in sostituzione dei classici MailChimp, Impact, Campaign, GetResponse e via dicendo. Ti lascio in descrizione il tutorial di MailChimp, che è un bellissimo tutorial dove ti racconto anche un po' di come funziona la parte di email marketing. E poi ci sono appunto questa parte qui che è sempre relativa invece al programma diciamo evoluto, quello che ti permette di gestire anche queste due voci, quella delle email appunto e quella che li chiamano Backpack. Backpack è per costruire delle aree di affiliati e per fare affiliazioni, quindi per permettere alle persone a potenziali persone, potenziali affiliati di promuovere i tuoi funnel. Che cosa fa? In pratica ti calcola già le provvigioni, puoi dire io vendo questo prodotto a 100 euro, il 30% è dell'affiliato, in automatico ClickFunnel ti gestirà la parte dei pagamenti, ti aiuterà a tenere traccia delle conversioni di queste persone, di questi tuoi collaboratori, di questi tuoi partner in affari e quindi permette di fare tutta la versione, diciamo tutta la parte di gestione delle affiliazioni. Altra cosa che ti permette di fare, in realtà ClickFunnel ha una bellissima sezione Help, c'è un canale YouTube, ci sono dei video, è sempre aggiornata, che ti permette appunto di conoscere un pochettino meglio come funzionano il mondo di ClickFunnel, fanno anche bellissima formazione a livello di funnel, in inglese, il signor Russell Branson e i suoi collaboratori parlano un americano abbastanza rapido, quindi se non sei perfettamente, non mastichi perfettamente la lingua, ti consiglio di guardare tutti i tutorial, tutto il materiale che sempre ti lascerò in descrizione relativo all'e-generation costruzione dei funnel, che cos'è un funnel di vendita, quale funnel di vendita puoi applicare a un tuo business, ti lascio tutto in descrizione, ma ti ripeto, entriamo nel vivo di questo tutorial e andiamo a capire come si costruisce un funnel e abbiamo chiamato questa sessione Crea e Converti, perché? Perché esattamente il ClickFunnel per costruire un funnel basta andare sulla voce funnel, build funnel e ti si aprirà questa finestra, questa finestra presenta tre alternative, una prima con l'obiettivo di fare l'e-generation, ti lascio in descrizione e sull'etichetta che è il, sulle collo, insomma, sul pop-up che si apre qui a fianco un video che ti spiega che cos'è l'e-generation e volendo ce n'è un altro dove ti racconto appunto tutti i tipi di funnel che si possono sviluppare per il tuo business, se hai delle esigenze particolari me le lasci nei commenti per cortesia, ma la prima parte è per collezionare e-mail per generare potenziali clienti, la seconda è invece per la vendita e la terza per l'hosting, oggi la parte dell'hosting la lasceremo un pochettino da parte perché ci sono secondo me degli strumenti migliori per gestire hosting, anche questa qui è una voce che se ti interessa è una parte di se ti interessa mi puoi lasciare nei commenti e approfondire in un prossimo tutorial. Una cosa importante che hai qui sotto due piccoli bottoncini, questo qui il funnel marketplace è quello che ti ho mostrato, se ti interessa comprare dei funnel già pronti oppure lo puoi creare da zero. Diciamo che ci interessa tutti i funnel di che cosa cambiano, la costruzione del builder è la stessa, gli strumenti che ci sono agli interni sono quasi gli stessi, che cosa cambia? Che se vuoi vendere hai bisogno di creare un funnel già impostato per la vendita perché gli strumenti di vendita si trovano solo all'interno di questa selezione di funnel e di questo tipo di funnel e non all'interno di quest'altra mentre all'interno di questa si trovano quelli specifici per generare dei lead. È indifferente quello che andrei a fare e oggi ti faccio vedere quello un po' più completo perché include la generazione dei contatti che è questo della vendita. L'altra cosa che ci chiede nel momento in cui si vende vogliamo fare un funnel di vendita vero e proprio vogliamo creare un product launch funnel anche questo ti lascio il link in descrizione il product launch funnel è un tipo di funnel inventato da Jeff Walker e sono i classici quattro video messi in sequenza uno dietro l'altro video numero uno numero due numero tre il numero quattro normalmente c'è un'offerta di vendita che dove ti arrivano una mail al giorno quelle cose lì ecco il click funnel te lo permette di sviluppare e ti permette di svilupparlo anche in maniera molto interessante. Ultimo sono le membership puoi creare una membership ossia le persone si registrano pagano una tantum o pagano tutti i mesi e hanno una serie di contenuti è un pochettino come un academy ok hai bisogno per esempio di pubblicare un corso e voi sei un personal trainer hai bisogno di pubblicare un corso e all'interno di questo corso ci sono le lezioni per immagina un mese di allenamento bene vuoi che ogni giorno oppure che ogni settimana l'allenamento si sblocchi il livello successivo dentro questa sezione di membership appunto ti permette di creare tutta questa parte di contenuti tu li salvi e in automatico imposterai ovviamente l'automazione e a distanza di immaginiamo sette giorni si sbloccano i contenuti immaginiamo invece di creare in questo caso un sales funnel facciamo una prova è un test di è un aspetta aspetta test e lo chiamiamo test AK possiamo scegliere un sottogruppo di tag in questo caso lo mettiamo come automating e andiamo a costruzione del funnel ci sono sempre ti ripeto una serie di belli strumenti e bei template che puoi utilizzare e soprattutto dei bei tutorial in inglese un po' complicatini ma se massichi bene la lingua funziona bene il funnel da che cosa è composto è composto da una sequenza di pagine perché come sai se non lo sai ti ripeto ci sono i link di iscrizione che te lo raccontano un funnel non è altro che una sequenza di pagine che hanno un obiettivo specifico questo obiettivo specifico dipende dal tipo di funnel in questo caso stiamo costruendo un funnel di vendita che cosa ci scegliete a fare ci chiedi di fare una squeeze page ovvero una pagina per collozionare i contatti un pochettino come la prima tipologia di funnel che ti ho fatto vedere una pagina di vendita vera e propria una pagina di ordine una pagina di conferma dell'ordine e una pagina di ringraziamento per ognuna di queste pagine puoi scegliere un template ok in realtà sempre qui allì sopra vedi trovi tutte quelle che sono le varianti se da per esempio della pagina di vendita vuoi creare un product launch non è che non puoi tornare indietro il sistema ti permette diciamo di recuperare quelle che sono le scelte precedenti occhio che ti ripeto alcune scelte non si abbinano bene a quelle che sono invece il funnel la tipologia di funnel che tu hai scelto immaginiamo che la parte di opt-in ci interessa ad esempio non lo so andiamo a fare questa ok una anzi anche questa ce ne sono veramente tante dipende da quello che andai a fare se vai a creare un ebook in cambio del lead magnet anche in questo caso ti lascio in descrizione un video che si chiama i 16 esempi di lead magnet che puoi utilizzare dove ti racconto appunto diverse tipologie il lead magnet è sostanzialmente il regalo che tu offri per in cambio della mail ok diciamo che ci va bene non lo so ne guarda che ne sto scorrendo abbastanza diciamo che ci piace questo ok possiamo fare il preview per vedere un'anteprima oppure direttamente ci possiamo selezionare il template una volta che l'abbiamo selezionato si aprirà questa schermata questa è una schermata molto importante molto interessante perché ci presenta già una delle funzionalità avanzate di clickfunnel che molti builder non hanno ovvero la possibilità di fare A-B test che cos'è un A-B test un A-B test è un paragone tra due tipi di campagne la campagna A e la campagna B per esempio vogliamo sapere se il bottone della iscrizione dove le persone richiediamo la mail funziona meglio in verde o in rosso bene possiamo costruire costruire no costruire sì possiamo costruire la stessa tipologia di funnel ad esempio creando una variante duplicando il contenuto della pagina originale e andandola a modificare solo in una variabile in questo caso dividiremo il traffico al 50 e 50 ok quindi tutte le persone che visiteranno questo link troveranno il 50 e 50 del traffico il 50% del pubblico in un modo il 50% in un altro per capire quale di queste due versioni funziona meglio la parte della pagina di vendita ti faccio vedere anche questa come si seleziona anche in questo caso c'è la possibilità di gestire A-B test ora entriamo nell'editor senza tranquillo o tranquilla lo facciamo subito ti voglio solo far vedere che nella pagina di sales puoi scegliere anche qui il template puoi scegliere un template in linea con quello precedente puoi scegliere quello che si adatta meglio alle tue esigenze e poi in un secondo momento lo puoi andare a modificare nei colori nelle forme in tutto quello che ti interessa diciamo che ci piace questo ok vedi che sotto hanno dei nomi Mother Funnel Application 1 se volessi scegliere tutti quelli della serie Mother Funnel Application 1 bene funziona funziona bene cosa uguale come funziona l'editor ok semplicemente io apro in un'altra pagina questa in un'altra finestra questa pagina e l'editor funziona in una maniera molto intuitiva ovvero una volta che si è caricato tu potrai modificare un pochettino come conosci WordPress conosci magari un software di editing online una qualsiasi editor online anche il classico Word Online ok funziona in questo modo voglio cambiare questo titolo ci faccio doppio clic e ci scrivo ciao ok e posso andare voglio cambiare questa immagine ci clicco sopra mi si aprirà un menu e in questa voce qui posso andare a sostituire l'immagine posso ovviamente inserire anche le voci dell'alt che sono il testo che una volta diciamo che le persone vedi questo qui che appare sopra questo boxettino ecco questo qui è l'alt text posso dare la dimensione dell'immagine un'altezza e in larghezza posso dargli un URL cioè se voglio che le persone una volta che cliccano su questa immagine ipotetica vadano ad esempio all'home page del mio sito posso addirittura mettere il target se è una nuova finestra o normale ma ripeto le stesse proprietà si applicano anche ai testi se io vado su questa parte di setting mi dirà il top margin che è il margine superiore che posso avere mi dirà per esempio la famiglia di font la dimensione la versione per mobile se vorrai testarlo ti faccio vedere prima che mi dimentico nella versione qui stiamo vedendo la versione desktop ma volendo possiamo anche testare come si vede la versione mobile quindi ti dicevo torniamo qui andiamo aspetta andiamo nella sezione delle impostazioni possiamo scegliere i colori del testo normale del testo in grassetto in questo caso lo vedi in arancione perché il testo è grassetto se io elimino il grassetto lo vedrai in nero ok? anche qui molto 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 semplice ti lascerò giocare ci sono delle funzioni da avanzate che puoi utilizzare l'altezza vuoi trasformare per esempio tutto in uppercase ovvero in maiuscolo ti lascio un po' giocare perché queste sono impostazioni abbastanza intuitive a dirti la verità quello che ti voglio dire prima di procedere sui dettagli dell'editor il video funziona allo stesso modo ci clicchi sopra scegli la tipologia di video e inserisci il video hai dei temi degli esempi questa schermata temi ti permette di gestire delle grafiche ma prima di addentrarmi in come modificare le pagine ti voglio farvi capire questi boxettini che appaiono vedi che ci sono dei box che appaiono qui attorno dei bottoncini delle lineette verdi azzurre o arancioni ecco queste sezioni questi elementi e queste diciamo aree sono le cose più importanti che puoi scoprire in click funnel cioè per capire come funziona il builder ti racconto esattamente come pensa click funnel click funnel ha delle sezioni ha delle linee ha delle colonne e ha degli elementi le sezioni sono quelle in verde potrai scegliere una sezione larga tutta la pagina piccolina media oppure più o meno larga ok puoi scegliere che queste sezioni siano vergini quindi diciamo graficamente non c'è nulla all'interno o puoi scegliere che abbiano delle azioni come se fossero dei template dei tipi di contenuti oppure puoi salvare le tue sezioni preferite dei tuoi design per fare in modo che i tuoi funnel siano coerenti tra di loro diciamo che io la sezione che voglio aggiungere se volessi aggiungere è questa ok ci clicco su e me lo dovrebbe aggiungere vediamo perché non lo fa si sta bloccando tutto aiuto aiuto ah ok vediamo se adesso me lo fa vediamo vediamo no non so perché non mi permette di selezionarlo ad ogni modo cliccando qui il tuo editor dovrebbe funzionare adesso magari la salvo la pagina la riaggiorno e vediamo se dopo ci permette di farla quando vai a salvare ti chiede dei dati seo ovvero il titolo della pagina ok test ak una descrizione le keyword che sono legate a questa a questa pagina l'autore se vuoi mettere un'immagine social che vuol dire che quando qualcuno la diffonde questa questa pagina troverà oltre che un testo descrittivo troverà un'immagine e poi in automatico si salverà proviamo a vedere se aggiornando mi permette adesso di modificare la pagina è una cosa che di solito non succede ma a volte può succedere insomma siamo è il bello della diretta come direbbero quelli bravi aggiungiamo una sezione medium è fatta semplicemente aveva bisogno di un po' di fiducia in più quindi ti dicevo la parte sono le sezioni sono quelle in verdi le linee o le colonne sono quelle in blu vedi in questo caso questa è una è una linea una riga meglio detto row linea ma ci sono anche delle linee che ha delle righe che hanno due colonne vedi questa colonna che appare qui diciamo a sinistra del mio mouse e a destra del mio mouse ecco queste sono la colonna di destra o di sinistra e poi ci sono gli elementi gli elementi sono questi in azzurro scusami in arancione non quelli in azzurro quelli in arancione arancione abbiamo il testo abbiamo un video abbiamo un bottone un pulsante abbiamo un'immagine abbiamo un'altra immagine abbiamo tutte queste che sono un timer un countdown abbiamo tutti gli elementi che si trovano all'interno della nostra pagina di vendita ebbene perché questa effettivamente non è altro che una pagina di vendita ma è la pagina dove fisicamente compreremo il nostro prodotto no questa pagina quindi in questa pagina qui noi abbiamo chiesto al nostro utente di ad esempio scaricare un ebook dove gli regaliamo non lo so ad esempio sette titoli sette intestazioni ad utilizzare per convertire al massimo la tua marketing automation le tue email va bene gli abbiamo dato un risultato un ebook gratuito ora vogliamo andare a creare una pagina di vendita dove gli diciamo vuoi un corso dove ti insegna ad utilizzare la parte dell'email marketing la parte della fatturazione automatica la pubblicità online bene se non sai di che cosa sto parlando e se ti può interessare una qualsiasi di queste cose io ti lascio anche il link alla nostra academy dove in automatico creiamo corsi di formazione per professionisti liberi professionisti e piccoli imprenditori per vendere di più senza stress dai un occhio perché qualche cosetta di interessante sono certo che la troverai quindi ti dicevo la pagina di vendita appunto serve per vendere in maniera vera e propria il tuo prodotto il tuo servizio e poi c'è la pagina di ordine la pagina dell'ordine è proprio dove si vanno a creare i nostri prodotti ti faccio proprio vedere che qui in alto appare la sezione una volta scelta la tipologia adesso ti faccio scegliere una tipologia delle mie preferite che si chiama two step order form guarda ti scelgo questa voce qui e ti faccio vedere come si carica perché ti apparirà una un'area appunto per creare il prodotto perché per andare a vendere in una pagina bisogna creare un prodotto come si aggiunge un prodotto molto semplice semplicemente si prova ad andare all'interno di quest'area si sceglie il sistema di integrazioni a breve nella seconda parte ti racconterò appunto le integrazioni che puoi selezionare però imposti le tue integrazioni il metodo di pagamento ad esempio è una di queste integrazioni puoi scegliere se il prodotto sia in vendita una volta o in subscription ovvero rivendita mensile ricorrente puoi scegliere i dettagli di questo prodotto e puoi andare avanti in questo in questa scelta aspetta se non scelgo non mi permette di andare avanti puoi scegliere per esempio il nome del prodotto il prezzo del prodotto la valuta puoi scegliere ovviamente il prezzo da mostrare i dettagli se ci sono delle spedizioni che devi andare a fare puoi scegliere se questo è un prodotto bump che cos'è un bump un bump è come te lo dico è una compra un acquisto istintivo la cioccolata che trovi in banco vicino alla cassa del supermercato le merendine i dolcetti le gomme da masticare ecco quelli sono acquisti di impulso cioè tu sei alla casa stai facendo la fila magari per pagare oppure stai caricando i prodotti vedi quell'acquisto quel prodotto prendi lo compri di impulso ecco un bump all'interno di un funnel di marketing e click funnel è uno dei migliori a gestire i bump ecco perché ti dicevo è sicuramente uno dei migliori software a fare questa cosa qui è un acquisto di impulso ad esempio nel caso precedente compra il corso dell'email marketing ma mettendo un piccolo check mettendo una piccola spunta puoi comprare anche il corso di non lo so magari come dopo aver creato una campagna di mail quale potrebbe essere la cosa logica che serve ad esempio delle pagine di vendita ok oppure come costruire un'offerta irresistibili come creare degli affiliati all'interno della tua audience ok quale potrebbe essere una cosa coerente con il prodotto o il servizio che stai promuovendo o stai tentando di vendere all'interno della tua pagina il bump è questo piccolo check che tu spunti per costruire per aumentare il carrello medio e costruire un'offerta più completa ovviamente anche più redditizia esco un attimino da questa sezione altrimenti non ne torniamo più vivi torniamo al nostro test perché all'interno di queste pagine tutte quante si modificano all'interno allo stesso modo ok all'interno della parte degli ordini puoi creare l'ordine abbiamo visto puoi creare il prodotto ci sono una serie di schermate per la creazione del prodotto dalla che tipo di mail vuoi inviare a questo è un prodotto che ha una quantità disponibile è molto semplice molto logico quelle che sono le sequenze che trovi in click funnel non vado ad entrare ad entrarmi in tutto questo perché altrimenti questo diventa un tutorial da tre ore ok se non di più veramente si potrebbe parlare all'infinito questo vuole essere un tutorial pratico per aiutarti ad addentrarti nel modo in cui click funnel in italiano funziona perché c'è pochissimo materiale in italiano e soprattutto per farti capire come puoi trovare eventualmente quello che ti serve attraverso l'assistenza di click funnel che hanno un ottimo servizio o prodotto o attraverso anche quello che potrebbe essere un commento che puoi lasciarci qui sotto e noi saremo felici di aiutarti a rispondere direttamente alle tue esigenze ti dicevo si caricherà all'interno questa pagina e questo è il magnifico two step order form che cos'è? è un modo per avere informazioni dall'utente anche se l'utente non ha comprato perché quello che succede è normalmente in una pagina di vendita una pagina di ordine ok dove tu compri normalmente c'è un campo dove si mettono i dati della carta di credito i dati personali e proprio questa parte qui è quella che ha peggiore conversione perché se una persona è un po' titubante chiude la pagina non ti lascia i dati personali non ti lascia nemmeno i dati della carta di credito e tu hai perso quel contatto hai perso quella potenziale vendita oltre che il lead perché non ci puoi parlare non hai più i suoi dati ecco uno step in due un order form una pagina di vendita in due step ti permette di risolvere questo problema perché lo step 1 ad esempio qui lo chiama shipping ma potrebbero essere anche semplicemente i dettagli di fatturazione se tu vuoi offrire un prodotto non spedibile o un servizio qui scegli i campi che sono all'interno da compilare che la persona deve compilare ma poi va allo step numero 2 ti faccio vedere come accedere allo step numero 2 lo vedi in questo modo ok questo è il magnifico bump così si presenta il magnifico bump e va qui solo in questa seconda voce le persone avranno inserito i dettagli della carta di credito perché è così importante perché se una persona non vuole inserire i dettagli della carta di credito non avrai perso il contatto perché nel primo step gli avrai chiesto una serie di informazioni tra cui l'email ok quindi potrai attivare una campagna di seguimento una campagna email una campagna di retargeting una campagna diciamo di marketing per entrare in una relazione con questa persona e guadagnarti la sua fiducia che poi che cos'è se non un miglioramento delle vendite guadagnarsi la fiducia questo è un editor che ti lascio illustrare insomma è la stessa cosa ti voglio solo parlare dei bottoni dei pulsanti il pulsante ha un editor molto simile hai possibilità di scegliere il template hai possibilità di scegliere delle opzioni avanzate gli angoli arrotondati cose carine la cosa più interessante è questa devi settare l'azione cioè quando le persone premono su questo bottoncino cosa vuoi che facciano potresti chiedere di submit order o submit form che cosa vuol dire ti dai l'ok diciamo procedi con quella pagina per esempio puoi approvare un ordine oppure puoi approvare un form che sarebbe un modulo di richiesta per esempio quello dell'email ok puoi aprire un pop up puoi visitare un link in questo caso non dice una pagina url è un website ma in realtà potreste essere un link di qualsiasi cosa anche di facebook potreste essere semplicemente un modo per andare nella parte successiva all'interno del tuo funnel del tuo step della tua sequenza abbiamo creato la sequenza scusami abbiamo creato la sequenza vediamo se ce l'ho ancora aperta no non ce l'ho ancora aperta ti ricordi le pagine la sequenza qui di le pagine ecco possiamo creare possiamo scegliere che vada nel prossimo passo oppure possiamo dirgli che premendo su questo bottoncino andremo a fare scrolling direttamente in una delle sezioni che ci sono qui all'interno del nostro della nostra pagina ok in qualsiasi momento possiamo salvare possiamo andare a fare la preview ovvero l'anteprima e vedere come funziona la pagina altre cose che ti dico all'interno di questa pagina e poi usciamo da questa sezione sono che attraverso la versione ti ho detto che questa è la versione desktop la versione mobile qui ci sono delle app ma in realtà non è molto utilizzata questa è una parte molto interessante è ti permette di gestire le integrazioni che tu hai già impostato però solo collegarle alla pagina ti permette di gestire la parte seo che è più o meno quel pop up che si è aperto qui all'inizio quando abbiamo provato a salvare ti permette di aggiungere i tracking code per monitorare ad esempio i tuoi google analytics il tuo google tag manager il tuo pixel di facebook o che che sia puoi creare dei css personalizzati puoi scegliere un background che è questo che vedi qui sotto in trasparenza in questo caso puoi scegliere la tipografia quindi i fonti i caratteri da utilizzare in tutta la pagina e poi hai la parte generale che è una delle cose che di solito non si trovano dove puoi scegliere se salvare una pagina come template ricordi che quando abbiamo provato a inserire la sezione quella in verde c'era la parte in cui ci diceva i nostri template quelli salvati ecco per salvare il template lo puoi fare attraverso questa voce qui ma puoi anche decidere se questa pagina viene mostrata o meno all'interno dei motori di ricerca se questa pagina deve mostrare o meno un banner qui in basso a destra per gli affiliati per fare affiliazioni anche tu con click funnel normalmente se è una pagina di vendita della tua impresa ti sconsiglio di tenerla attivata puoi collegare un asset digitale che sono semplicemente le five icon e altri per esempio se vuoi caricare un ebook da scaricare puoi caricarli direttamente da qui e puoi dirgli se eventualmente una volta che hanno fatto submit su questa pagina su quale pagina devono andare in fase successiva ok questo è abbastanza semplice ti faccio vedere ad esempio che premendo sull'integrazione scusami delle email ad esempio possiamo connettere get response ad esempio possiamo scegliere aggiungere la campagna possiamo scegliere la lista possiamo scegliere quello che è ripeto ma l'integrazione deve essere già fatta e a questo punto direi che la parte interna di click funnel è fatta proviamo a salvare e uscire vediamo se c'è qualche altra cosa che mi sono segnato che non ti ho ancora raccontato ma direi che ci siamo le altre pagine le modifiche allo stesso modo c'è una cosa che qui volendo puoi aggiungere ti faccio vedere che è un upsell ok se era staccata nel frattempo la mia bella tastiera aggiungiamo questa pagina e possiamo aggiungere un altro ordine un'altra pagina che in questo caso è una pagina di upsell ovvero una pagina di vendita che si chiama tecnicamente one click upsell auto one time offer in inglese oppure una pagina di downsell che cos'è una pagina di upsell questo è molto molto carino è una delle funzioni di click funnel che mi piacciono tanto ti permette di creare un'altra pagina di vendita successiva alla pagina che tu stai visualizzando senza dover rimettere i dati della carta di credito perché se abbiamo detto che le persone nel momento in cui hanno più paure si interrompono nella vendita è la parte in cui devono inserire i dati della carta di credito non dovendoli chiedere nuovamente ma se la persona fa clic sul bottoncino in automatico gli prendo i soldi dalla carta di credito questa deve essere una cosa che eticamente e tecnicamente mi piace che sia e ti consiglio che sia ben specificato cioè premendo su questo bottone caricheremo sulla tua carta di credito 300 euro per comprare il prodotto o il servizio che stai scegliendo deve essere chiaro non deve essere ingannevole non deve essere truffaldina la cosa però è una funzione molto interessante perché nel nostro funnel che stiamo immaginando quello dei titoli per le mail del corso sull'email marketing con il piccolo bump crea la tua offerta perfetta potremmo pensare che una volta che abbia comprato il corso gli vogliamo dire ti possono interessare una masterclass con 10 imprenditori simili a te che hanno bisogno di fare la stessa cosa ci mettiamo tutti insieme la costruiamo per il bene nel giro di 30 giorni ok se ti interessa paga con one click upsell ovvero con un solo click io faccio upsell ti vendo qualche cosina in più anche qui sceglierai il template la cosa è identica ok prima che mi dimentichi nella versione stats troverai le statistiche relative a questo funnel per ogni singola pagina molto importante li puoi anche filtrare per data puoi vedere tutti i contatti che sono stati aggiunti a questa pagina quindi tutto l'elenco chiaro chiaro puoi vedere lo storico delle vendite ovviamente in questo caso non ce ne sono e puoi rivedere di nuovo tutti quanti i setting alta cosa che è interessante da andare a controllare torniamo nella pagina degli step ti faccio vedere l'ultimissima cosa più o meno queste voci si ripetono su questa parte qui quello che ci interessa è nella sezione publishing vai a impostare per esempio il nome della pagina vedi si chiama squids page in questo caso la posso chiamare squids page 1 andando a fare update questo nome cambierà trovi la la seconda parte del path cioè del percorso che poi vedi è cambiata come per magia troverai la seconda parte che sono appunto quella del path ovvero il percorso adesso ti farò vedere l'area dei domini ma ad ogni modo attraverso questa pagina tu puoi scegliere che questa non si chiama squids page ma si chiama registrati trattino pre immagina ok faccio update e la cosa funziona qui ci sono una serie di funzioni che si possono attivare per esempio molto interessante ti faccio vedere in una pagina di vendita nella pagina dell'ordine nello specifico nella sezione publishing puoi attivare la funzione di mostrare i pop up questa qui si chiama digital table rush è una funzione nuova in beta che sarebbero è presente quando vai su un e-commerce e ti dicono hanno comprato Giorgio ha comprato da Milano tre minuti fa e poi ti esce un'altra cosa non lo so Martina ha comprato dieci minuti fa questo pop up che ti fa quella che si chiama la social proof ti dà fiducia fa una serie di cose psicologiche molto interessanti bene normalmente ci sono degli strumenti anche abbastanza cari che ti permettono di aggiungerlo al tuo e-commerce o alla tua pagina di vendita in questo caso click funnel ce l'ha all'interno ed è gratis e quindi qui ci sono altre cose che si possono fare si può salvare la pagina quello che ti stavo dicendo è che nell'ultima voce questa qui in alto in blu dei settings puoi creare appunto modificare il nome del funnel puoi modificare il tag puoi modificare il dominio o meglio puoi abbinare un dominio ad un funnel in questo caso click funnel ti dà un dominio generico ma tu se vuoi lo puoi configurare in maniera personalizzata ora ti faccio vedere dove è la parte dove inserisci questo dominio puoi creare un smtp configuration ovvero una configurazione per mandare le mail ti ricordi le mail di conferma quelle che si sono all'interno della creazione del prodotto bene le esetti da qui una favicon puoi crearla nella parte degli digital asset ora ti faccio vedere dove si trova quindi non la devi caricare esternamente la carichi direttamente in click funnel quindi copi link ed è fatta puoi mettere un codice di tracciamento generico per tutto il funnel quindi non un codice specifico per quella pagina ma un codice generico un attivatore generico nella parte head nella parte iniziale o nella parte finale puoi condividere un funnel questo se sei un marketer oppure vuoi condividerlo con un tuo collega è molto interessante perché ti permette che tutto il lavoro che hai fatto lo puoi copiare puoi attivare questo è molto interessante una modalità test per testare il funnel vero e proprio puoi attivare una serie di integrazioni non sto qui a raccontarti tutto perché sennò davvero non la finiamo più ma la cosa che ti volevo farmi vedere è il test nel funnel funziona in questo modo vado qui lancio la pagina e e e e e e ti apparirà qui in alto un piccolo box giallo perché non ti appare aspetta giusto perché ho lanciato la pagina sbagliata vediamo di nuovo rifacciamo ok vedi ti apparirà qui in alto un codice dove io per testare il mio la mia la mia pagina di vendita posso testarla senza dover mettere i miei dati della carta di credito reali e posso utilizzare una qualsiasi scadenza un qualsiasi codice quello diciamo di sicurezza ma utilizzando questo numero di pagi di carta di credito nel caso si utilizza come metodo di pagamento stripe bene 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 io direi che tutta la parte della visualizzazione del nostro bellissimo click funnel a livello della parte iniziale del tutorial è fatta quello che ti invito a fare è se ti sta piacendo questo tutorial mi lasci un bel like mi dai soddisfazione così mi stimoli a fare cose che ti possono interessare perché attraverso i tuoi like o attraverso i tuoi commenti io capisco che questa roba ti interessa e quindi magari sono più incentivato a registrare esattamente quello che ti serve a te io direi di andare all'ultima sezione di questo video ne abbiamo già parlato ne abbiamo già accennato integrazioni dominiti metodi di pagamento smtp che è tutta sta roba te la faccio vedere immediatamente perché perché all'interno di click funnel quando vado su quest'area qui a voce questa voce qui in alto account setting troviamo tutta un'altra serie di impostazioni diciamo del mio account della mia conta quenta si dice in spagnolo mi viene del mio account del mio come si dice in italiano scrivelo nei commenti se ti viene ad ogni modo della mia impostazione del mio certificato non lo so come si traduce in italiano non mi viene del mio conto ecco del mio conto di click funnel dove posso gestire il nome dell'azienda posso aggiungere un indirizzo posso aggiungere i subdomain posso aggiungere la time zone se mi interessa posso aggiungere una serie di cose posso aggiungere dei collaboratori posso aggiungere e posso maneggiare posso sistemare la mia parte di fatturazione posso gestire le notifiche eventualmente la storia che abbiamo avuto e questa è solo la parte di management perché poi c'è una parte di assets dove ci sono i template e quello che interessa di più sono i digital assets i digital assets ti presentano ti faccio vedere come in questo modo queste sono le integrazioni aspetta 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 dove stanno dove stanno va bene i digital assets si presentano in questo modo ad ogni modo ci sono degli elenchi dove tu puoi cliccare all'interno ok non ci posso andare perché ci sono delle cose di clienti quindi per privacy non ci entro però ad ogni modo carichi semplicemente il tuo file e una volta che sono caricati i tuoi file all'interno di click funnel poi ti darà un url un link e tu lo puoi collegare dove ti pare questa si che invece è la parte delle integrazioni la parte delle integrazioni si presenta in questo modo se vuoi aggiungere una qualsiasi integrazione in maniera nativa direttamente da click funnel puoi scegliere ad esempio c'è ActiCampaign Webber per la parte di MailCampaign c'è la parte di Facebook per quanto riguarda HubSpot Kajabi guarda guarda ce ne stanno veramente veramente tante sono addirittura filtrabili per una serie di filtri appunto di campi addirittura puoi gestire gli sms basta che ci clicchi sopra compili il materiale che ti chiede e fai ad integration altra cosa che puoi andare a creare sono i gateway di pagamento ti ricordi che ci faceva scegliere Stripe o Paypal bene a seconda della tipologia dell'account ne puoi caricare uno due tre cinque o qualcosina in più o qualcosina in meno dipende anche in questo caso ci vai sopra scegli il tipo di pagamento compili quelle che sono le richieste che ti fa l'account fai aggiungi gateway payment gateway ed è fatta altra cosa che puoi personalizzare sono la integrazione la personalizzazione dell'email ovvero dell'SMTP ClickFunnel ti permette di farlo in due modi il primo in maniera diciamo nativa all'interno di ClickFunnel attraverso quelle che si chiamano le transactional only ovvero le mail dopo la transizione la transizione economica cioè dopo che qualcuno ha pagato puoi aggiungere gratis inviare gratis email di conferma d'ordine email con i dettagli dell'ordine e cose che sono relative all'ordine ok quindi al prodotto e all'ordine questa parte qui la gestisci direttamente quando crei il prodotto nelle varie nella sequenza delle pagine dentro la parte del prodotto ti ho fatto vedere solo la prima e la seconda ma ce ne sono sei o sette tu segui ti accompili quelle che ti interessano sono molto intuitive se hai difficoltà ci sono l'assistenza di ClickFunnel che fa dei tutorial sempre aggiornati perché è una piattaforma che si aggiorna spesso se hai bisogno me lo chiedi nei commenti ad ogni modo la prima parte la crei da questa parte qui quindi da dentro all'interno del prodotto la seconda mail che invece sono quelle un po' più di marketing di automazioni la gestisci invece attraverso un sistema partner anche in questo caso ci sono delle guide devi incollare sostanzialmente i parametri dopo che ti sei registrato a questi servizi se è in grid mandrill o questo qui non mi ricordo come si chiama e poi lo attivi insomma è abbastanza semplice l'ultimo quello più interessante e quello sicuramente fondamentale da personalizzare è il dominio senza utilizzare domini particolari o insomma caratteri alfanumerici o cose poco interessanti clickfunnel ti permette di creare la creazione di raggiungere un dominio che compri attraverso di loro scegli il dominio lo paghi ed è fatta è interessante che quello che compri attraverso di loro ha il certificato ed è SSL quindi SSL quindi è un certificato di garanzia sicurezza che è quello che è lo standard attuale oppure puoi utilizzare come dice qui il signore è un po' triste perché non gli dai soldini a clickfunnel ma noi siamo contenti lo stesso se lo tieni utilizzato e lo registri attraverso uno o qualsiasi degli altri register che utilizzi bene puoi fare using an existing domain e quindi ci clicchi sopra quello che fai è aggiungi il dominio ok puoi specificare se l'hai aggiunto con Cloudfair o meno una volta che l'hai aggiunto fai add domain aspetti qualche ora o qualche minuto il dominio si aggiunge all'interno del tuo elenco una volta che si è aggiunto troverai addirittura la possibilità non solo di abbinarlo al tuo funnel quindi il dominio ti dice quando ci clicchi sopra quando lo digiti e qualcuno lo vuole visitare quale pagina si deve aprire ma soprattutto la possibilità di attivare l'SSL ovvero il certificato di sicurezza anche qui chiede qualche minuto ma sono due clic non ti puoi sbagliare sezione SSL attiva aspetta qualche minuto e dopo di che o qualche ora e dopo di che è attivata davvero 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 semplice ti ripeto tutto quello che ti può servire c'è una bellissima sezione di help in inglese le persone sono molto molto rapide a risponderti è molto molto utile da utilizzare perché il click funnel è una piattaforma molto dinamica molto 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 aggiornata e sempre 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 ti conviene dargli un occhio almeno giusto per stare connessa con loro e ti ripeto se hai bisogno di qualche cosa trovi tutti i link in descrizione per provare la piattaforma in maniera gratis e se mi lasci un bel commento io senza problemi ti supporto per come è possibile io e il mio team cerchiamo di aiutarti al meglio per vendere di più senza stress e questo è quello che facciamo su questo canale e ora mi potresti chiedere che cosa è che devo fare Stefano e beh quello che devi fare è provare a registrarti alla piattaforma i 14 giorni gratis e cerca di mettere un po' il piedino nell'acqua cioè non imparerai mai a notare sul libro o su un tutorial di YouTube devi un pochettino io ti consiglio riguardati questo tutorial magari un paio di volte una prima volta giusto per farti un'infarinata magari quella che stai vedendo proprio adesso e una seconda volta cerca di farla con lo strumento a fianco di modo che personalizzi metti pausa personalizzi e avanti ed è fatta io così ho imparato tante tante tanti strumenti e sbattendoci un po' la testa nel tuo caso ci sbatterai meno la testa perché questo tutorial ti ha dato questa infarinata che ti serve qualcosa di specifico se ti serve me lo lasci nei commenti e direi ora di iniziare ora sta a te amico mio amica mia iniziare con questo fantastico mondo perché click funnel è sicuramente uno degli strumenti per vendere di più senza stress perché lo fa in automatico perché lo fa anche mentre dormi perché se lo imposti bene e lo spingi bene lo promuovi bene attraverso una campagna di pubblicità di link di content marketing di distribuzione mettiamola così di questo funnel di distribuzione e promozione di questo funnel sicuramente molto interessante anche perché attraverso il monitoraggio di tutti i dati ti permette sicuramente di vendere di più di vendere meglio di ottimizzare le conversioni e quindi goderti un poco poco più la vita perché è più soldini perché è più tempo libero perché perché la vita è tua e ci fai quello che vuoi ancora una volta ti sottolineo che se hai domande se hai dubbi se hai qualsiasi curiosità se hai bisogno di qualche approfondimento se ti serve qualsiasi cosa trovi tutto che mi lasciate nei commenti trovi nella descrizione il link per attivare i 14 giorni gratis e soprattutto tutti gli altri video che ho registrato del mondo dei funnel del mondo della lead generation del mondo di generazione di clienti degli esempi di funnel degli esempi di materiali che tu puoi costruire direttamente nel tuo business adesso che hai anche lo strumento ti lascio tutti i link in descrizione ti ringrazio per aver visto questo tutorial con noi se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti attivando la bellissima campanellina c'ha pure un bel design attiva questa campanellina così tutti gli altri strumenti le altre strategie le altre figate che pubblicheremo su questo canale ti sarai notificato dal grande youtube e io ti ringrazio nuovamente per aver visto questo tutorial ti rimando al prossimo video e buona automazione di business ciao 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 ciao